4 must have per un'estate a cavallo. Calendula leggings, elastici, tecnici e freschi, ci accompagnano nei movimenti e ci consentono di concentrarci completamente sulla nostra attività sportiva senza distrazioni. Sono realizzati in tessuto tecnico, leggero, morbido e traspirabile. I guanti tattini sono realizzati in rete microforata, sul dorso delle dita e della mano. La parte inferiore del guanto è in uno speciale materiale tecnico, che consente la migliore sensibilità e presa sulle redini. Hanno un inserto touchscreen per utilizzare il cellulare. Gli stivali tattini sono freschi, grazie all'esclusivo Air Boost Ventilation System, che consente al piede di restare asciutto in ogni situazione, per garantire il massimo comfort. I calzettoni estivi tattini sono perfetti per completare il nostro outfit, con una struttura a maglia leggera, che permette all'aria di circolare liberamente. Aderiscono perfettamente le gambe e non scivolano mentre siamo a cavallo. Sono disponibili in vari colori e taglie. Seguici per tutte le novità tattini. Grazie a tutti.